Nessun provvedimento d'urgenza concesso alla General Enterprise, la società che gestiva l'appalto dei rifiuti al Comune di Vibonati, prima che venisse rescisso dall'ente il contratto per presunte inadempienze della società. Il Tribunale delle Imprese di Potenza ha deciso di non accogliere il ricorso d'urgenza ex articolo 700 presentato dalla General Enterprise, che aveva chiesto la sospensione della determina con cui il Comune chiudeva ogni rapporto. Il giudice infatti non ha ravvisato l'urgenza, il rischio in cui l'azienda sarebbe in corsa in attesa della definizione della querella con la causa vera e propria. Ampia soddisfazione quella espressa dal sindaco di Vibonati, Manuel Borrelli. Confermata la legittimità del nostro operato, ha commentato, il Comune non ha preso un'accantonata, noi non siamo proprio degli sprovveduti. In quel frangente infatti abbiamo agito con determinazione, coscienza civica e grande forza di volontà. Ora finalmente avremo delle certezze in un settore la cui gestione aveva avuto delle ripercussioni anche a livello di immagine per il Comune. Al momento il servizio rifiuti a Vibonati è gestito in via temporanea dalla Pellicano Verde. Proprio giovedì però è stata pubblicata la gara per l'affidamento definitivo per i prossimi tre anni, con procedura aperta. Intanto però la General Enterprise non si ferma. Andremo avanti con la causa ordinaria sempre dinanzi al Tribunale delle Imprese, ha detto il loro legale l'avvocato Angelo Paladino. Il magistrato non se l'è sentita di decidere sul provvedimento d'urgenza, ma tutto è ancora aperto. Parte ora infatti la fase ordinaria. Inoltre è stato presentato ricorso all'anticorruzione perché avvii un'istruttoria sugli affidamenti successivi decisi dal Comune di Vibonati.